No Pepe dai, non incominciare il nuovo anno, già un sanno dei cheat. Ciao ragazzi, come state? Spero bene, qui è Pepe e benvenuti in questo mio primo video dell'anno. Buon anno a tutti ragazzi, vi auguro tanta salute, amore e tanti videogiochi. E sì, tanti videogiochi che ne abbiamo bisogno per sfogare tutta la rabbia che abbiamo dentro di noi dopo una giornata di lavoro. Ma forse dopo una giornata di scuola, vedete voi. Quindi ragazzi, buon anno a tutti. Io volevo pure dirvi due piccole parolini per quanto riguarda il canale. Che aspettando sempre il Battlefield Hardline, perché lo sto aspettando con ansia, cerco di postare più o meno un video a settimana. Non di meno, ma forse uno di più, dipende da quanto tempo ho e quanto contenuto pure. Quindi detto questo, detto tutto, ragazzi ancora una volta buon anno a tutti e io vi do appuntamento al mio prossimo video. Ciao belli, alla prossima! Incominciamo bene!